Una storia che inizia negli anni Ottanta con le prime spumantizzazioni in cantina Lungarotti. Questo è il nuovo uscito, è un 60 mesi, sempre uno chardonnay, un pino nero spumantizzati qui in cantina. Il segreto di questo vino è sicuramente il tempo. Il dosaggio è un extra brut, quindi lasciamo al vino la massima espressione nel bicchiere e lo si vede già dal colore, il colore è leggermente più carico del nostro frutto millesimato e anche le sensazioni sono molto più mature, frutta, fiori, assolutamente conturbanti nel bicchiere. La salivazione inizia subito, ci avverte subito una buona freschezza. Incredibile sentire come questo vino nei 60 mesi si è aperto e si è evoluto. Lo immaginiamo subito con abbinamenti anche un po' complicati, però secondo me il meglio delle sue caratteristiche le può dare con abbinamenti cose semplici, affettati, soprattutto i nostri classici prosciutti in orcia o i salumi tipici della regione oppure anche con pesce, con chiage e tanto altro.